la calma, Fabriano potrebbe avere a disposizione un possesso di 8 secondi e 20 decimi sbaglia anche il secondo, occhio a Chandler Thompson palla per Vetra, si lancia dentro Vetra, canestro incredibile, a un secondo finisce, finisce, Fabriano è in serie A1, finisce l'avventura della record ancora una gara decisa all'ultimo secondo, davvero incredibile quanto è successo è sconcerto in tribuna, mentre fa festa naturalmente la curva di Fabriano grazie a tutti